Ciao amici vari investor, Intel nella trimestrale uscita giovedì sera per il Q1 2024 ha mostrato revenue più o meno in linea con le aspettative degli analisti leggermente sotto in verità, però ha battuto alla grande la stima sugli utili ma questo non è bastato per evitare un bel meno 9% il giorno successivo in borsa cosa è andato storto? è il momento giusto per investire in Intel dopo questo crollo? ne parliamo in questo video allora, come potete vedere le vendite sono cresciute del 9% anno su anno in linea con l'outlook di Intel dato a gennaio il gross margin è migliorato di 6.7 punti percentuali superando la guidance del management e arrivando al 45.1% e l'utile per azione è aumentato di 22 centesimi rispetto a un anno fa che era negativo battendo le stime sia dagli analisti come detto che la guidance data da Intel a gennaio come potete vedere il segmento Intel products sia per il client computing group che per il data center c'è stato un miglioramento anno su anno sia a livello di revenue che di utili operativi mentre per il network edge le revenue sono scese ma in compenso la perdita di un anno fa è diventata profitto quindi in generale Intel products è migliorata Intel Foundry invece è peggiorata sia a livello di vendite che di perdita e questo credo abbia deluso un po' tutti perché tante speranze per il futuro di Intel sono riposte in questo segmento di business e questa è l'azienda di Intel dedicata alla realizzazione di chip personalizzabili che possono essere programmati per svolgere specifiche funzioni sarebbe il competitor di Xilinx di AMD e come potete vedere va male revenue in calo, profitti che diventano perdita male insomma e secondo il management perché c'è un problema di accumulo dell'inventario nel settore anche Mobileye male, l'azienda di guida autonoma e assistita di Intel c'è stato un bel crollo delle vendite e anche questo business è andato in perdita perché è un business che segue i cicli del settore auto e che adesso sta rallentando e quindi anche in questo caso ci sono problemi di inventario che si è accumulato però dovrebbe migliorare la situazione secondo il management già a partire dal Q2 quindi un Q1 ha due facce segnali di miglioramento in Intel products ma per i restanti business male però nel complesso l'azienda ha migliorato le revenue il gross margin è l'utile per azione rispetto all'anno fa non era difficile aggiungerei perché un anno fa era messa male male Intel ma il vero problema che ha portato il meno 9% in borsa è stata probabilmente la guidance per il Q2 che è stata decisamente debole perché le vendite sono previste sullo stesso livello di un anno fa quindi male il gross margin invece dovrebbe migliorare di 3.7 punti percentuali ma gli utili per azione addirittura si stimano più bassi di quello di un anno fa quindi con una guidance del genere per un'azienda che è ancora lontana dal suo periodo d'oro quando aveva un gross margin sopra il 50% e un operating margin sopra il 30% ci si poteva aspettare una reazione molto pessimista del mercato anche perché il mercato ormai è diventato impaziente perché le altre aziende di semiconduttori come TSMC, Supermicro, Micron, Nvidia, AMD eccetera stanno andando bene cavalcando l'onda della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale Intel invece molto meno bene il mercato non sembra condividere la positività e l'entusiasmo di Gelsinger direi il solito entusiasmo di Gelsinger che ha dichiarato che stanno facendo grossi progressi e rilasciato una solida trimestrale dicendo che i prodotti innovativi che hanno lanciato nei settori client computing, edge e data center hanno portato il segmento Intel products a crescere a doppia cifra e questo è vero è cresciuto del 16-17% rispetto ad un anno fa questo segmento ma soprattutto ha visto il margine operativo triplicare anno su anno sembra quindi che questo settore sia in piena fase di turnaround e per me questa è la cosa più positiva di questa trimestrale e Gelsinger aggiunge che grazie alla produzione su larga scala di Intel 3 per la prima volta in quasi 10 anni verranno prodotti negli Stati Uniti processori all'avanguardia e che sono in corsa per riguadagnare la leadership di processo produttivo già nel prossimo anno con Intel Foundry e questa è la tesi bullish della maggior parte di chi sta investendo Intel in questo momento cioè quella che Intel possa diventare presto una valida alternativa ai produttori asiatici come TSMC e Samsung nella produzione di chip allora Intel non è al momento un investimento in una quality stock ovviamente ma in una turnaround come già abbiamo detto altre volte e quindi con tutti i rischi che ne conseguono ma come abbiamo visto il turnaround sta procedendo bene perché alla fine Intel Products che fa il grosso delle revenue e degli utili di Intel sta migliorando tecnologicamente Intel sta colmando il gap con la concorrenza però il colpaccio secondo me lo si fa se si realizza la missione di Intel Foundry di diventare la TSMC dell'Occidente gli analisti sembrano essere fiduciosi con le loro stime sul futuro di Intel perché per i prossimi 2-3 anni prevedono un ritorno della crescita delle revenue a doppia cifra e anche l'utile netto per loro dovrebbe fare un 2-3x tra 2-3 anni ma evidentemente in questo momento il mercato preferisce investire in qualcosa di più sicuro come azienda di semiconduttori ed è anche comprensibile da un certo punto di vista perché qua parliamo di un turnaround che non è qualcosa che avviene normalmente dove per turnaround non si intende un'azienda in rallentamento che poi si riprende cioè Apple non è in turnaround adesso così come non lo erano Alphabet e Amazon 1-2 anni fa ma per turnaround si intende azienda che diventa così poco competitiva che da profittevole va in perdita e che per qualche anno fa fatica a riprendersi e deve fare un totale cambio di strategia e di modello di business per riprendere affare utili di una certa consistenza e tornare a crescere e queste transazioni solitamente sono difficili e pericolose il turnaround potrebbe avvenire ma anche no e c'è quindi il rischio di chiudere con una bella perdita in caso negativo e come sapete io ho una piccola posizione in Intel e appunto sono contento che sia piccola e del 2-3% circa perché questa è una posizione da bet, da scommessa se mi va bene e Intel diventa la TSMC dell'Occidente magari mi faccio un 2-3x se mi va male non dovrebbe causare grossi danni al portafoglio anche se la considero un errore Intel cioè oggi come oggi non la comprerei perché mi sono reso conto solo dopo l'investimento che sarebbe stata molto più lunga come turnaround di quello che pensassi e ho commesso l'errore di sottovalutare la concorrenza ho sottovalutato la ciclicità del settore ho sottovalutato quanto fosse capital intensive questo settore però visto che l'esecuzione di Gelsinger sta seguendo la tabella di marcia come da programma e il miglioramento del business sta avvenendo e siccome la posizione che ho come detto è piccola quindi con un danno potenziale limitato eventualmente al momento holdo la posizione e penso che questo turnaround possa arrivare ma non ho incrementato dopo il crollo e non ho intenzione di incrementare perché come detto voglio rimanga piccola questa posizione chi entra adesso però potrebbe avere una certo margine di sicurezza perché 10 analisti stimano che nel 2026 Intel potrebbe fare 2.8 dollari di utile per azione mettiamo che le cose vadano molto peggio e ne faccia solo 2 dollari per azione con un pie di 15 che ci potrebbe stare visto la media storica di pie di Intel saremo a 30 dollari circa e sono i prezzi attuali questi quindi un po' di margine di sicurezza a questi prezzi ci potrebbe essere ma questi sono chiaramente i conti della serva e si basano sulle stime degli analisti non sono assolutamente consigli di investimento fate le vostre valutazioni per me è una bet potenzialmente da piccolo importo ma se volete investire in una quality company e quindi qualcosa di meno rischioso personalmente non guarderei Intel adesso ma altre aziende e diverse aziende di ottima qualità le abbiamo analizzate nel nostro gruppo Discord del circolo dei value investor ne abbiamo analizzate centinaia nel corso di quasi un anno e per entrare nel gruppo vi basterà supportare il canale con una piccola donazione su Patreon link in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate di Intel dopo questa trimestrale se ce l'avete in portafoglio o se state pensando di entrarci un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide